Mi piacerebbe rispondere alle affermazioni di Monti con una battuta. Di sicuro in effetti ha ragione. Non ci si annoia di certo a passare da un lavoro all'altro e a tenere 4 o 5 lavori per poter arrivare alla fine del mese e pagarsi l'affitto di casa e avere i soldi per vivere anche. Mi sono laureato in lettere, in diritto classico, ho fatto un dottorato in storia antica non ho avuto possibilità di proseguire la carriera in università e ho lavorato per un paio d'anni come consulente in associazioni e in Ollus che si occupavano di tutela del patrimonio culturale e adesso lavoro in una scuola della provincia. Ho iniziato a lavorare come archivista per un anno poi ho iniziato a lavorare nella moda facevo la distribuzione di una rivista di moda e mi occupavo dei servizi fotografici sempre per questa rivista successivamente ho iniziato a lavorare come educatrice e tuttora lavoro come educatrice. A mio giudizio il continuo variare, passare da un lavoro all'altro non può che determinare conseguenze negative nel senso che impedisce di concentrarsi di sviluppare conoscenze e di formarsi in un determinato settore lo vedo per quanto riguarda la mia esperienza di ricercatore universitario. Se uno cambia il lavoro dipende dal tipo di lavoro cioè se io faccio la grafica pubblicitaria e poi mi ritrovo a fare mettiamo fotografia e poi c'è sempre nello stesso ramo della produzione che rientra nel media, nella comunicazione, nel marketing è un fattore diciamo che aggiunge al proprio curriculum invece cambia quando uno fa diversi lavori in cui per sei mesi si lavora in un call center per altri tre si lavora nel catering per altri quattro mesi si lavora, che so, a fare la scodellatrice in una scuola cioè nel senso che in un curriculum diciamo che non viene neanche preso troppo sul serio loro i vari contratti atipici lo utilizzano verso il lavoratore per il ricatto che così almeno una persona è molto più prestante molto più attiva molto più... non è che c'è... le persone ovviamente lo vogliono quel lavoro qualsiasi esso sia ho studiato scienze politiche e poi sociologia per cui sono una sociologa e dal punto di vista lavorativo ho svolto una serie di lavori da quando mi sono laureata ma anche durante il periodo in cui studiavo ho sempre lavorato per progetti e questo mi ha portato a svolgere delle attività diverse nel senso che io mi trovo a lavorare alcuni giorni la settimana per delle persone altri giorni per altre a svolgere del lavoro a casa come appunto un lavoro che poi consegno nella forma della scrittura di progetti per cui la mia vita lavorativa anche se non svolgo è frammentata in tempi, momenti e interlocutori diversi diciamo che io sono diplomata di ricerca artistico di Brera ho iniziato a lavorare nel 1971 ho iniziato da piccolissima in agenzie di pubblicità cambiando agenzie di pubblicità e quindi facendo un certo movimento insomma quindi arrivando a diventare art director, signora director certo, Monti ha detto che dobbiamo disabituarci al posto fisso bene, sono vent'anni che il posto fisso in Italia non esiste più iniziato in alcuni settori nello specifico ma la precarietà perché in Italia non è flessibilità ma è precarietà mancando il sostegno al reddito cosa che esiste negli altri paesi d'Europa diventa soltanto precarietà quindi noi siamo già da vent'anni che saltegliamo alla ricerca della sopravvivenza ma certamente se avessi un contratto più stabile a tempo determinato una forma che mi garantisca un certo livello di stabilità non avrei il problema di dovermi io sobbarcare il compito di andarmi a cercare come gestire la mia settimana i miei mesi lavorativi non dovrei cercarmi degli interlocutori che mi permettano di mettere insieme poi a fine mese uno stipendio e una situazione lavorativa con un certo livello di stabilità sono diplomata interprete traduttrice alla scuola interpreti di Milano dopo il diploma ho iniziato una serie infinita di lavori tutti a tempo determinato ho lavorato come traduttrice e come interprete ho lavorato in un ufficio che si occupava di vendere moda italiana all'estero sono stata un anno in Marocco lavorando come cantante jazz tornata dal Marocco ho avuto il lavoro più lungo sempre a tempo determinato contratti che si sono rinnovati al Politecnico di Milano in un dipartimento di ricerca non mi è stato rinnovato l'ultimo contratto perché ero in maternità e mi hanno lasciata a casa e io sono fra l'altro una mamma single ho anche insegnato presso una scuola di recupero anni insegnavo inglese e spagnolo a un certo punto ho trovato lavoro in una galleria fotografica di Milano dopo questo lavoro ho aiutato un ex regista di filmati pubblicitari per alcuni mesi nel frattempo avevo mandato in giro curriculum e mi ha chiamato una curatrice di mostre di fotografia con cui ho collaborato per alcuni mesi lì il contratto non c'era proprio per allestire per preparare una fiera molto importante a cui abbiamo partecipato a Parigi Fiera d'Arte Fotografica finita la fiera non servivo più per cui mi sono messa alla ricerca di un altro lavoro e ho trovato lavoro in una scuola di cucina finito il contratto con loro ho subito trovato lavoro come cuoca in un ostello di Milano un ostello appena aperto molto bello dove tuttora sto lavorando occupandomi della cucina io cambio lavoro per motivi contingenti non tanto perché sia adesso interessata al cambiamento io sarei ben felice di avere un lavoro fisso, tranquillo e con una prospettiva nel tempo la dichiarazione di Monti l'ho sentita mi ha fatto sorridere mi ha fatto un po' rabbia anche sinceramente perché certo sì io non mi sono certo annoiata nella vita però l'instabilità è un problema per me fondamentale è un problema grosso è un problema che non ti fa dormire di notte ecco questa è la questione non è l'essere abituati a cambiare posto di lavoro a sviluppare le proprie conoscenze a sviluppare la propria professionalità no è l'esatto contrario cioè si deve essere abituati ad essere schiavizzati e a subire qualsiasi tipo di ricatto è un'altra cosa questo è successo a noi quando avevamo 40 anni 20 anni fa da allora tutte le generazioni a seguire hanno vissuto questo ma il problema è che chi di precarietà ferisce di precarietà perisce nel senso che comunque questo incide sull'impoverimento della popolazione sui consumi sulla crescita di questo paese